Amici di Qui Cosenza, oggi 6 aprile, momento di gaudio, di divertimento con i Ditelo Voi. Buonasera ragazzi. Buonasera a voi amici, buonasera a voi a Cosenza, Qui Cosenza e Fuori Cosenza. Anche Fuori Cosenza, qui qua qua. Qui qua qua, io vi ringrazio di essere qua. Grazie a voi di averci invitato. Grazie a Lello per il suo pensiero inespresso, ma lo comprendiamo bene, lo ringraziamo. Davi. Un abbraccio a Francesco, un abbraccio a Mimmo. Grazie a voi. E un saluto a Lello, che l'anno prossimo non ci sarà. Grazie mille. Ciao. Un bacio, ricordiamolo così.